La compagnia Egri Bianco Danza ritorna con la stagione I punti danza 2021-2022 per un nuovo appuntamento domenica 19 dicembre alle ore 18 con lo spettacolo Lo schiaccianoci presso il teatro sociale Villani di Biella. Lo schiaccianoci è una famosissima favola per bambini scritta da Hoffman. Da questo capolavoro letterario fu poi creato nel lontano 1861 l'omonimo balletto che, frutto dell'estro del compositore Tchaikovsky, rappresenta uno dei traguardi più alti del balletto classico. Il coreografo Raffaele Bianco fornisce una rivisitazione contemporanea proponendo un'esplorazione di diversi mondi onirici nei quali prendono forma e sostanza sogni evanescenti, giochi estrosi e fantasie oniriche, frutto di giovani menti. Su questa produzione il coreografo ha sottolineato Lo schiaccianoci apparentemente è il balletto meno drammatico della trilogia di Tchaikovsky. In realtà è un percorso di crescita, di scelte e di distacco dal mondo dell'infanzia.